Iniziamo una lezione con le cose fondamentali per utilizzare ChemSketch, qui avete la struttura oppure per disegnare strutture, quindi schemi di reazione e qui avete Draw che invece serve per mettere testi, aggiungere coppie elettroniche, frecce curve e altre cose che servono nei meccanismi di reazione. Iniziamo con struttura che è la parte principale per disegnare le molecole, cominciamo a disegnare le catene ben fatte, questo strumento, il puntatore serve ogni volta che devo selezionare qualcosa e spostarlo, prendiamo l'atomo di carbonio, per disegnare una catena basta collegare, cliccare ripetutamente su un carbonio e ottenere automaticamente cliccando a ogni estremità viene una catena ben fatta che però va sempre come vedete in discesa, se voglio una catena ben fatta che invece va in orizzontale, devo prendere quest'altro tipo di legame segrettato qui, che mi permetterà, premendo il tasto maiuscole e trascinando, di aggiungere il numero desiderato di carboni tutti con angoli di 109 gradi e questo quindi è come si fa una catena di atomi di carbonio. Per selezionare questa catena basta che ci clicco vicino e tutta viene selezionata e per spostarla devo quindi prima selezionarla e poi trascinarla col mouse. Per aggiungere altri atomi di carbonio alla catena basta sempre fare un clic all'estremità oppure ai punti di snodo che ci sono i carboni. Se io voglio aggiungere eteroatomi, il metodo è diverso perché se io per esempio voglio aggiungere un ossigeno legato in questa posizione, in C2, non basta che io clicco per avere l'OH, ma se io ci clicco mi viene sostituito il carbonio con un ossigeno. Per correggere gli errori basta fare CTRL Z oppure andare su Edit e fare CTRL Z così. Se io voglio mettere l'OH, devo prendere quindi l'ossigeno, trascinare e non semplicemente cliccare e poi rilasciare e così ho aggiunto l'eteroatomo ossigeno. Se voglio aggiungere il cloro, il bromo, quello che è, faccio così. Un metodo molto più pratico quindi per ottenere l'inserimento di eteroatomi è quello di fare prima la catena, poi mettere inizialmente dei carboni a posto degli eteroatomi, per esempio io voglio mettere un doppio legame oppure un OH qui, invece dell'OH ci metto il CH3, poi quando prendo l'ossigeno cliccherò qui, in questa maniera devo cambiare meno volte gli atomi, quindi mettere i carboni e poi cliccare con l'eteroatomo sui carboni aggiunti. Andiamo avanti. Legami multipli, per fare dei legami multipli è sufficiente prendere il carbonio o qualunque altro atomo, anche l'idrogeno o qualsiasi, e cliccare su un legame. Vediamo che sono aggiunti doppi legami. Se io clicco ancora, ritorna singolo. Se io faccio la stessa cosa qui, mi viene doppio, clicco ancora, viene triplo, clicco ancora, viene singolo. Evidentemente qui non posso fare un legame triplo, perché altrimenti otterrei un carbonio pentavalente, per cui posso fare o doppio o singolo. Se voglio trasformare questo alcol secondario in un chetone, basta che ci clicco una volta e il legame diventa doppio. Di nuovo, singolo, doppio e così via. E così abbiamo fatto anche i legami multipli. prendo il puntatore, sposto questa molecola, seleziono, la sposto e la metto qui. Quindi abbiamo visto anche come si fa a spostare una molecola. Se io devo correggere, fare un errore, per esempio devo, oppure devo copiare, invece di rifare tutta la molecola da capo, semplicemente supponiamo che devo spostare questo doppio legame, lo tolgo da qui e lo metto da quest'altra parte. Se io devo fare una molecola simile a questa, per esempio devo fare l'alcol, l'alcol ce l'abbiamo, devo fare il chetone corrispondente a questa, invece di rifarla da zero, prima la trascino, come? Premo il tasto CTRL, dopo averla selezionata e vedo che si forma il segno più sotto alla freccetta e una volta che ce l'ho, sempre mantenendo tenuto il tasto CTRL, la sposto. Se io seleziono il tasto maiuscole mi viene spostata dritta, adesso vado a fare la modifica soltanto della parte che devo modificare, per esempio qui devo avere il doppio legame, così io senza rifarla da capo ho trasformato la mia molecola che era un alcol nell'equivalente molecola che è un chetone. Questo quindi mi permette di copiare e correggere senza rifare tutto da capo. Frecce di reazione, le frecce di reazione stanno semplicemente qui, dove ci sono anche i più che indicano che questa reazione richiede qualche reagente, per esempio in questo caso un ossidante, mettiamo più, possiamo mettere un ossidante, qui potrebbe essere semplicemente cerio, così andiamo a vedere come si trovano altri atomi, basta cliccare qua su in alto, ho la tavola periodica, il cerio non ce l'ho tra questi elementi, allora me lo vado a cercare qui, eccolo qua. Abbiamo anche il deuterio e il trizio, cioè gli isotopi e gli idrogeno. Prendo il cerio e faccio ok, lo metto qui e qui come vedete ho il cerio 3+, e invece per fare da ossidante mi serve il cerio 4+, allora per scrivere il cerio 4+, ho il cerio 4+, ho il cerio 4+, faccio un doppio clic su questo cerio, poi vado qui sulla carica, cioè su questo segno Q-, e porto il valore da 3 a 4+, più 4, e così ho il cerio 4+, che vado a mettere vicino al più. In questa maniera io ho specificato che sto facendo questa reazione di ossidazione. C'ho la freccia, c'ho il segno più, c'ho tutto quello che serve senza doverlo disegnare con pint. Ok, frecce di reazione, cariche positive e negative. Bene, per dire che un carbonio per esempio diventa positivo, o un ossigeno diventa positivo, copio trascinandola questa molecola qua. Bene, allora, vogliamo protonare questo ossigeno, ci sono due modi per farlo, uno è prendere l'idrogeno, trascinarlo, puoi prenderne un altro, trascinarlo, avendo messo due idrogeni espliciti, in questa maniera la struttura è diventata con un O+. L'altro modo di fare questa stessa cosa, adesso facciamo annulla, CTRL Z, CTRL Z, l'altro modo è di prendere una carica positiva, le cariche positive le prendo qua sotto, sotto questo ABC, c'ho una freccetta che mi fa prendere le altre cose. Qui posso scegliere tra cariche positive negative, negative, radicale, radicale catione, radicale anione, scelgo carica positiva, appioppo la carica positiva all'ossigeno e ottengo la stessa cosa di prima, cioè l'OH2+. La stessa cosa la posso fare sul carbonio, quindi prendo la mia carica positiva e voglio indicare che dopo aver tolto questo OH2+, basta selezionarlo, toglierlo, mettere la carica positiva sul carbonio e quindi è rimasto un carbocatione. Ecco qua. Visto che io sto disegnando con molecole che sono prive di C e di H indicati, qui voglio fare sparire questo CH, come devo fare? Doppio clicco finché non ottengo qui la stessa cosa, CH+, poi vado su CH+, show e lo tolgo, poi vado sul carbonio, show e lo tolgo e poi faccio applica, così avrò ottenuto la carica positiva senza carbonio e senza idrogeno. Per ottenere che questo legame non è tagliato, l'unica maniera è o alzare la carica positiva o ribaltare la molecola, facciamo le due cose. Uno, solleviamo la carica positiva, cliccando sul più, torno alla carica, qui abbiamo un meno due pixel verso due millimetri verso l'alto, li aumentiamo a 4 e facciamo applica, vediamo che la nostra carica ancora copre il legame e me lo taglia. Allora possiamo arrivare a 5, sempre dopo averlo selezionato, possiamo arrivare a 5 e ora siamo riusciti a togliere la carica positiva, c'è ancora un piccolo, no, non c'è più il taglio. Secondo metodo, prendo la mia molecola e la ribalto per far andare il più dalla parte opposta, per ribaltare la molecola basta prendere questo strumento, me la ribalto orizzontalmente, con questo la ribalto riflettendola verticalmente, da destra a sinistra, questo invece da sopra a sotto, clicco con la molecola selezionata e ottengo che la mia mola sia girata, però c'è ancora una piccola interruzione dei legami, in questo caso se voglio fare vedere il più senza tagliare i legami, lo alzo di poco, per esempio di 0,5 mm, applica ed ora abbiamo il legame perfettamente chiuso. Quindi in questa maniera io posso mostrare cariche positive e cariche negative. Strutture solo compatte oppure strutture fatte solo di linee, qui siamo partiti da strutture fatte solo di linee, ma probabilmente quando voi disegnerete qualcosa con chemo e sketch avrete una situazione diversa, cioè simile a questa, facciamo una catena da 5 atomi, avrete una situazione in cui ci sono i metili, i carboni e gli idrogeni in evidenza in struttura compatta soltanto alla fine, alle estremità. Per passare da questa struttura compatta a quella in cui si vedono tutti i CH, CH2, i carboni e gli idrogeni, bisogna andare qui e cliccare su uno, qualsiasi degli atomi, doppio clic, si apre questa finestra, andare su Common e scegliere invece che Terminal, come sta adesso, aggiungere ALL, cioè tutti gli atomi devono essere mostrati e andare su APPLY. In questa maniera tutti i carboni e gli idrogeni sono mostrati. Se voglio posso trasformare in una struttura lineare, anche se nella realtà non lo è, e se voglio posso anche avvicinarla al punto da fare scomparire tutti i legami, usando il tasto delle frecce, che mi permette di spostare anche un atomo all'interno di una molecola, verticalmente, orizzontalmente. E così posso anche disegnare le strutture classiche compatte. Posso anche fare altro, per esempio questo CH3, invece di essere un CH3 potrebbe diventare un H3C, potrebbe diventare un CH3. Come? Questa cosa devo farla però su un carbonio per volta. Prendo l'idrogeno, scelgo valore automatico, lo metto a destra, così io ho costretto il idrogeno ad andare a destra. Lo applico, ora è diventato un CH3 ma me l'ha sovrapposto. Finché è evidenziato questo primo carbonio col tasto delle frecce a sinistra, lo sposto e lo metto alla distanza giusta. Così ho ottenuto una struttura compatta dove non si vedono più nemmeno le linee. Per ritornare alla struttura precedente, chiaramente devo prima aprirmela, che altrimenti sarebbe tutto appiccicato, rimetto in alto e in basso i vari atomi. Poi posso selezionare tutta la molecola, andare su Common, rimettere, togliere All e lasciare Terminal, applicare e quindi ho riottenuto di nuovo i metili, solo le estremità visibili, oppure posso levarli tutti, il che è meglio, togliendo anche Terminal, applico e in più metto a default questa impostazione, in modo che la prossima volta che utilizzo ChemSketch mi ritrovo questa impostazione già fatta, Set Default. Ok, idrogeni impliciti e espliciti. Per mettere gli idrogeni impliciti e espliciti, che magari devo mostrarli in una reazione questi idrogeni, non so, per esempio prendiamo questo alcol, posso fare CTRL C oppure Edit, Copia, CTRL C e poi posso incollarlo qua sotto, CTRL V e lo incollo dove mi pare. Io voglio fare vedere questo idrogeno esplicito, quindi per esempio faccio così e metto questo idrogeno esplicito, oppure potrei mettere un idrogeno esplicito su questo carbonio, un altro idrogeno esplicito sullo stesso carbonio. Potrei voler mostrare solo questo carbonio, qui dove ci sono gli idrogeni, ci doppio clicco, vado su Common, mostro il carbonio, applica. Quindi io agisco soltanto dove devo inserire idrogeni espliciti, cioè visibili. Volendo posso anche cambiare di colore a questi atomi, posso fare per esempio questo H, questo idrogeno rosso, per mostrare che è acido, questo ossigeno blu, per mostrare che è basico, questo carbonio verde e scegliere i colori che voglio. Posso fare questo doppio legame, non so, blu e questo singolo legame rosso-arancio e così posso colorare e sistemare tutti gli atomi come mi pare. Posso anche fare gli idrogeni impliciti in un altro modo, prendiamo per esempio il metano, faccio un clic e ottengo il metano. Chiaramente non mi ha disegnato un punto, anche se come default io gli ho detto che non deve mostrarmi nessun carbonio e nessun idrogeno. Per vederlo basta che ci attacco un altro carbonio e quindi l'etano lo otteniamo come fatto di due metili attaccati insieme da un legame che è anche l'unica cosa che riesco a vedere. Affinché disegno solo un metano ovviamente non può farmi vedere un punto, quindi mi mostro il CH4. Se io voglio mettere gli idrogeni espliciti a tutta la molecola, la seleziono e poi faccio Tools, aggiungi idrogeni espliciti e mi mette gli idrogeni espliciti. Eccolo qua. Chiaramente il carbonio è rimasto invisibile. Se io voglio che questa molecola assuma la sua struttura reale, effettiva, che non è a croce, devo utilizzare questo strumento ottimizzazione 3D. Quindi clicco qui e mi dice rimuovo gli idrogeni espliciti prima di iniziare l'operazione? No, perché altrimenti non vedo più niente. Quindi me l'ha ottimizzata. Apparentemente è rimasta la stessa cosa di prima, ma io ho questo cursore tridimensionale che è lo stesso che posso ottenere scegliendolo qui, rotazione 3D, con il quale ruoto la mia molecola e mi rendo conto che in realtà è diventato un tetraedro perfetto regolare nelle tre dimensioni. Come faccio a evidenziare gli idrogeni che sono rivolti verso di me? Per esempio questo. Utilizzando il legame acuneo. Metto qui e per evidenziare quello che va dietro invece prendo questo tratteggiato. Poi lo allontano un po' per capire meglio. Mentre questi due posso assumere che stanno sul piano, più o meno stanno sul piano. E quindi in questa maniera disegno una struttura 3D abbastanza simile alla realtà. Poi me l'aggiusto, verificando le posizioni dei singoli atomi. Bene, numerazione della catena. Chiaramente io non vado a rendere gli idrogeni espliciti di tutta una molecola, per esempio come questa, perché se io faccio l'idrogeni espliciti a tutta questa molecola, seleziono, faccio Tools, aggiungi idrogeni espliciti e viene fuori un gran macello, tutti questi idrogeni che non mi servono a niente e non riesco più a capire la struttura della molecola. Quindi faccio CTRL Z e la rimetto come stava prima. Andiamo sotto. Numerazione della catena. Per numerare una catena, può essere utile per indicare. Devo prendere sempre qua sotto, con questa freccetta, se non ce l'ho già visibile, questo strumento Cancelletto e scegliere OK se io voglio che la numerazione inizi da 1. Ogni volta che farò un click, aumenterà di 1 la numerazione, su qualunque atomo cliccherò. Quindi devo stare attento a cliccare gli atomi nella maniera giusta, altrimenti devo ricominciare da capo. Per esempio questo carbogadione dovrei numerarlo a partire da destra, dove c'è il primo carbonio del doppio legame, faccio un click e mi mette 1. Il 2 sarà questo, il 3 sarà questo, il 4 sarà quello del carbonio positivo, il 5 sarà quest'altro. Come vediamo, la carica positiva è sovrapposta alla numerazione del carbonio. Allora, cosa faccio? Agisco sul numero di posizione N e lo abbasso, lo metto a una misura negativa, invece che 3,6 posso fare, per esempio un meno e vediamo che cosa cambia. Ecco, è andato sotto e quindi qui mi sta bene, non dà più fastidio. Così posso fare anche la numerazione. Notate che se noi continuiamo, riprendo lo strumento, Cancelletto, devo ricominciare da capo. Quindi se voglio andare avanti, per esempio, col numero 6, devo dirgli qui, parti da 6 e ce lo inserisco. In questa maniera il prossimo carbonio o atomo che andrò a cliccare sarà il numero 6. Allora, per interrompere la numerazione clicco su un qualsiasi atomo e poi continuo a fare quello che devo fare. Siamo arrivati adesso alla parte che riguarda invece più Draw. Prima di vedere questa però, vediamo altri tipi di frecce che abbiamo qui, per esempio, scegliendo invece che la freccia normale, posso prendere la freccia a due punte che mi serve per indicare risonanza tra due strutture, oppure posso prendere la freccia dell'equilibrio chimico, ci sono due frecce in direzione opposta, che mi serve per indicare che una reazione è d'equilibrio. Queste due frecce però non possono essere separate e modificate. Allora, poi abbiamo anche queste frecce che indicano la retrosintesi, cioè per esempio potrei utilizzarla per dire che questo alcol, cioè che questo chetone si può ottenere da questo alcol, faccio così. Questa freccia significa che questo chetone è derivato da questo alcol. è un significato convenzionale riconosciuto in tutto il mondo. Là è il significato della retrosintesi, cioè che cosa mi serve per fare una certa cosa, quindi ragionare a ritroso. Adesso passiamo a Draw, devo vedere per esempio come si fanno le coppie elettroniche. Per fare le coppie elettroniche, vado su Draw e prendo Templates, oppure premo F5 e mi si apre la finestra dei Templates. A questo punto posso utilizzare il programma in dotazione, cioè il template in dotazione che è Lewis, non questo, quello in dotazione è, per vederlo devo scegliermelo qui, Lewis Structures, eccolo qua, e qui ho alcune coppie di elettroni, per esempio orizzontali, verticali, oblique, oblique in quest'altra maniera, e me le scelgo tra queste. Per esempio se prendo quella verticale, me la vado a mettere qui sotto a questo ossigeno numerato. Se io sto a Draw non posso più modificare la struttura delle molecole, ma posso solo spostarle in blocco. Per modificare la struttura della molecola devo ritornare a Structure. Quindi in questa maniera io posso mettere le coppie elettroniche. L'alternativa è utilizzare i Templates fatti da me, che posso mandarvi per email, che sono Lewis dot, questi più grandi, che ci sono anche le cariche positive, negative, eccetera, questi con le corone già fatte, gli ottetti già fatti di vari colori e di vari angoli. Questo è il metodo alternativo, ne prendo uno qualsiasi, per esempio questo, lo metto qui e poi in mezzo ci metto un atomo di bromo, di cloro, che ha l'ottetto. Per togliere l'idrogeno come devo fare? Devo trasformare questo HCl in un cloruro. Per trasformarlo in cloruro devo scegliere la carica negativa, prenderla, appiopparla all'HCl che diventa un cl-. Poi centro gli elettroni dell'ottetto intorno all'uione cloruro, e così ho fatto un ione cloruro in pochi secondi. Allora, torniamo a Draw, dobbiamo vedere come si fanno le frecce, coppie elettroniche, frecce curve. Per fare le frecce curve si prende questa linea curva, posso scegliere varie curvature, per esempio per mettere in evidenza lo spostamento di un legame dovuto ad una reazione. Prendiamo questo chetone e lo trasciniamo sotto. Noi vogliamo vedere per esempio l'attacco di uno ione cloruro, eccolo qua, su un carbocatione che andiamo a fare qua. Prendiamo la carica positiva, la mettiamo su questo carbonio, togliamo tutto ciò che qui è visibile, bisogna andare su atomo, idrogeno non mostrato, carbonio non mostrato e applicare. Togliamo questa parte che non ci interessa, io voglio fare solo vedere, accidenti, questo un atomo per volta, un atomo per volta, eccolo qua, va bene così. Voglio evidenziare che questo cloruro deve andare a finire su quel carbonio positivo. Come faccio? Prendo una freccia curva, vado su Draw, prendo una curva, cioè trascino e arrivo fino al carbonio. Adesso devo aggiungere la punta, per aggiungere la punta prendo il puntatore di Draw, doppio clicco sulla freccia, sulla curva, prendo Arrow che significa freccia, mi scelgo una punta alla fine, dovrebbe essere questa, la faccio un po' più piccolina, mi posso anche cambiare colore, la lasciamo rossa e poi la applico, constatando che la freccia è al contrario, bene, allora tenendola selezionata, andando su Arrow faccio Swap e ora ho invertito la parte iniziale e finale, faccio Applica e così ho questa cosa che indica che il mio cloro andrà a formare un legame con il carbono positivo, il quale il carbono positivo dopo la reazione non sarà più positivo, quindi ritorno a struttura, prendo l'atomo di cloro, lo attacco al carbonio positivo trascinandolo e poi voglio anche mettere in evidenza che questo è il legame che si è formato grazie alla freccia curva e allora lo faccio rosso, selezionandolo, doppio cliccando qui, no, CTRL Z, allora qui, scegliendo il colore del legame e così il legame è diventato rosso, prendo la freccia di reazione per indicare che sono passato da questo a quest'altro e prendo anche il segno più da mettere qui, volendo posso anche disegnare la risonanza con le frecce curve, quindi torno su Draw, faccio una copia del carbocatione intermedio che è di tipo allilico, prendo il tasto maiuscole per non rifare, il tasto CTRL mentre seleziono per non rifare tutto, lo trascino sotto e così ho la copia, poi devo indicare che questo doppio legame si ribalta di qua e quindi la carica positiva viene a destra e per farlo prendo una freccia un pochino più arcuata e ribalto questo doppio legame da qua a qua, come faccio a fare la freccia rapidamente senza ricominciare tutto da capo, doppio clicco su quella di prima, poi faccio un clic su quella nuova, faccio applica e mi ha applicato lo stesso formato alla freccia nuova, ora devo indicare la risonanza che mi porta alla formazione dell'altra struttura ibrida di risonanza, quindi prendo la freccia su Structure a due punte, la disegno qui, prendo la copia del, oppure anche di questo, copio tutto questo, da qui lo trascino orizzontalmente col tasto maiuscolo e CTRL premuto, inverto la posizione del doppio legame su Struttura, quindi basta che io prendo un legame qui o un atomo, tolgo il doppio legame da qui e lo metto qua e inverto la carica positiva, la devo mettere sul primo carbonio, quindi vado a prendere la carica positiva, la metto sul primo carbonio, ora questo è un C+, e quindi io per fare vedere che non è un C+, devo andare a rimetterci gli idrogeni, ecco qua, C+, oppure meglio ancora, tolgo il carbonio per coerenza con l'altra struttura, ora devo invertire la direzione della freccia, quindi seleziono la freccia, vado su Draw per fare un'operazione sulle frecce, che le ho disegnate con Draw e prendo questi che servono per fare l'operazione di inversione sinistra a destra, ecco qua, e poi avvicino bene la freccia, quindi per rappresentare che queste due strutture limite risonanza formano l'ibrido risonanza, posso tornare su Draw, su Structure, cioè prendo la parentesi quadrata da qui, poi la applico dalla sinistra alla destra, disegno questo rettangolo e mi vengono le parentesi guardate, che sono sempre più grandi come le avevo fatte, allora vado su Draw, deseleziono, seleziono la parentesi, seleziono l'altra parentesi mantenendo premuto il tasto maiuscole, in questa maniera ho selezionato ambedue le parentesi, poi avendole selezionate entrambe, vado sulla maniglia al centro in alto, si forma la freccetta piccola a due punte, trascino verso il basso, faccio la stessa cosa sotto, trascino verso l'alto e ho ridotto le dimensioni delle mie parentesi e così ho indicato la struttura e risonanza di questo carbocatione allilico, posso fare anche di più, posso usare questo strumento automatico su Struttura, che mi permette di di fare, prima devo selezionare la struttura, quindi seleziono la struttura, poi prendo lo strumento che mi mette la struttura tratteggiata, avrei dovuto selezionare però solo la parte relativa al sistema coniugato, quindi faccio CTRL Z, seleziono solo questi 3 atomi che fanno parte del sistema coniugato, prendo lo strumento e mi metto una linea tratteggiata con un più qui in mezzo, che sta a indicare la delocalizzazione elettronica. Bene, è rimasto solo una cosa, due cose, aggiungere il testo e salvare le immagini, per aggiungere il testo è molto facile, devo andare su Draw, selezionare subito dopo questo AB che sta sotto, Edit Text, cliccare dove voglio e quindi qui scrivo Ibrido di risonanza di un carbocatione all'elico, stringo la finestra di testo, me la sposto dove mi pare, posso anche allungarla, togliere, ritornando con l'Edit di testo, ritornare qui, togliere il carattere e metterla sulla linea, posso cambiare il tipo di carattere, le dimensioni, il colore, per cambiare il colore ho diverse possibilità, o utilizzo, seleziono tutto il testo così dopo essere uscito e poi vado a cambiare il colore, oppure posso fare un doppio clic sulla finestra di testo e scegliere testo, font e qui c'è il colore e c'è una scelta maggiore di colori per modificarli come mi pare, color prugna, ecco qua, bene, per salvare le immagini, supponiamo che io voglio salvare questa immagine, oppure questo schema di reazione qua sopra, non devo fare altro che selezionare solo ciò che voglio salvare come immagine e poi dopo di che ho due opzioni, se sto usando Word, e quindi questo non mi richiede internet, io sto usando Word e voglio incollare questo, seleziono, faccio Edit, Copia, oppure faccio Ctrl C, Copia, poi apro Word e una volta aperto Word faccio Ctrl V, cioè incolla, non so se questo funziona anche su Open Office perché non ho mai provato, ecco qua, si è aperto Word, metto in una posizione qualsiasi del testo e faccio Ctrl V e mi viene incollata l'immagine, eccola qua, bene, quindi a questo punto io nel testo posso scriverci quello che mi pare, questa è una finestra di testo, cioè di immagine che la posso stringere, allargare, dimensionare come voglio, è molto comodo con Word, meno comodo è se devo incollare questa stessa immagine in un documento di Google, di Word Drive, chiudiamo senza salvare, in questo caso devo fare l'operazione diversa, questa è l'immagine che ho selezionato, vado su File, Export, per la verità prima avrei dovuto salvare il file, ma non importa, sotto Export, scelgo dove devo andare a incollare una cartella, una cartella dove voglio incollare questa cosa, per esempio Quarta.ch, la chiamo, non so, prova, vi do un nome, ma devo cambiare questa estensione da mall, deve diventare gif, la devo scegliere qui, ho una serie di formati, devo scegliere il formato gif bitmap, quindi ora ho prova.gif e posso salvare nella cartella, quindi ho ottenuto un'immagine gif che corrisponde da questa parte che avevo selezionato. Adesso posso andare in un documento qualunque di Google Drive, per esempio questo qui di Diego Company, mi crea un po' di spazio, poi faccio Inserisci, Immagine e vado ad inserire l'immagine da carica, non da URL, da URL e se dovevo mettere un'immagine da Internet senza salvarla nel computer, quindi dovevo conoscere la URL, ma siccome devo mettere un'immagine che me la vado a prendere dal computer, faccio Carica e ce la trascino sopra, oppure faccio, scegli qui l'immagine da caricare e me la vado a cercare. Vado a rintracciare la cartella, ho salvato la mia immagine di prova, ecco la prova gif, la riconosco, che è quella, e la inserisco. È un po' più elaborata, ma alla fine riesco ottenere lo stesso l'immagine e posso anche qui ridimensionarla, stringerla, allargarla. Bene, e questo quindi è tutto.